posto niente buongiorno a tutti avete portato i guanti vedete solo le riprese qua no mi raccomando i bambini andiamo a lavorare dai andiamo un po lavorare virginia arriva breve abbiamo trovato famiglie che dormivano in strada e ci sembrava un po' in controsenso che ci fossero degli appartamenti chiusi quando sindaco non avvocato a virginia virginia va benissimo ciao ciao E' un po' da maestro. E' un po' da maestro.